Le società pratolane alla ribalta del calcio abruzzese, grazie ai nerostellati alla Virtus Pratola, vincitrici rispettivamente dei campionati di eccellenze prima categoria. Il giusto riconoscimento è arrivato ieri in occasione della presentazione a Franca Villa al Mare dei calendari di eccellenze e promozione. Nel corso della cerimonia l'assessore regionale allo sport Silvio Paolucci, alla presenza del presidente della FIGC Abruzzo, Daniele Ortolano, ha consegnato la Coppa al presidente del club nerostellato Gianluca Pace. La premiazione arriva nei giorni che precedono l'inizio della Serie D, che vedrà i nerostellati esordire domenica prossima a Castelfidardo. Il prestigioso trofeo, si legge in una nota, va ad arricchire la bacheca della formazione pratolana, rendendo orgogliosa l'intera città e la Valle Peligna in questi giorni flagellate dai terribili incendi. Alla luce di questa situazione, l'USD Nerostellati 1910 ha ritenuto opportuno annullare la presentazione in piazza della squadra che era prevista per questa settimana. La società tutta, conclude la nota, coglie l'occasione per rendere omaggio e ringraziare i tantissimi volontari per l'incredibile impegno profuso a corsi in questi giorni nelle diverse zone devastate dal fuoco. Ad alzare il trofeo è stata anche la Virtus Pratola, unica squadra abruzzese imbattuta, vincitrice anche della Coppa Disciplina. I biancorossi, rappresentati dal direttore sportivo Fabrizio Sant'Angelo, sono stati premiati da Franco Pettinari e Roberto Iannuzzi. Grazie a tutti.